In questo video andiamo a vedere alcune dei funzioni principali della nuova agenzia online. Partiamo dalla timeline. Timeline praticamente è una bacheca common social dove puoi scrivere aggiornamenti, post e puoi condividere foto, immagine, documenti e utilizzare le emotions. Poi c'è il calendario, ce l'abbiamo qui nella home page oppure da qui nei vari versioni, vari formati. Entriamo solo di quella versione, per esempio su quella del mese e dentro trovi tutti gli appuntamenti del network, tipo i fan trip, i learning e open day. Cliccando dentro di uno, troverai dentro tutti i dettagli di questo evento. Poi c'è la funzione dei messaggi, dove puoi chattare messaggi di gruppi o messaggi one to one. È molto semplice ma andiamo in pratica per capire meglio. Il primo step è cliccare su questo pulsante qui e ti apre una finestra qui su type the names devi digitare il nome della persona di interesse scriviamo il testo qua e basta fare sent. Se vuoi creare un chat gruppo, basta che qui aggiungi altre persone e fare sent. Teni presente che oltre del semplice testo puoi utilizzare anche di inviare foto, immagine, documenti e utilizzare gli Emotions. Poi un'altra funzione importante è quella di formazione. Qui si trovano tutti i corsi che un consulente può fare partire da corso base che è quello che ogni consulente deve fare per iniziare l'attività passando poi per le certificazioni dei vari prodotti. A destra sopra, qui su All Categories, tutte le categorie si possono ordinare i vari corsi in base a questi filtri. Vediamo un'altra funzione che è quello Viaggi per agenti dove puoi trovare tutte le proposte per viaggiare a tariffa agenti. I prezzi sono più bassi rispetto a quelli esposti al pubblico e per trovare queste offerte basta cliccare qui. Altre funzioni importanti sono quelle di informazioni dove trovi varie voci importanti e utili e quelle di risorse. Un'altra funzione è quella di gruppi e zoom che la troviamo su Community. Apriamo un gruppo e dentro ogni gruppo si possono avviare le conversazioni qui sul feed discussione per argomenti specifici e quello più importante è gli incontri online con zoom direttamente qui sulla piattaforma. Tutte le altre funzioni potrai vederle quando entrerai nella nuova agenzia online.